e delle ultime vincite ottenute proprio nelle ultime estrazioni, tra cui l'estrazione anche del 30 di gennaio, di sabato. Mister Numeretto, bellissima vincita con il 39, 39.52, Bari, quinto colpo. Poi ancora, dammi il 5, 60.74 sulla quota di Roma, vinto il 30 di gennaio. Venezia, sempre nell'estrazione del 30 di gennaio, e vediamo se andiamo a recuperare anche le altre. La Spia 8 fa il botto, bellissimo terno secco, 56, 9, 67, a Torino al sesto colpo, quindi l'ennesimo terno, vinto con i miei programmi. Quindi queste sono alcune delle ultime vincite ottenute proprio dai miei software. E ancora, sempre la Spia 8 fa il botto, 81, 82, Firenze, secondo colpo. Come vedete, i miei software continuano a dare sempre ottime vincite, sono fortissimi per l'estrazione, fortissimi per ambo secco, danno delle previsioni molto affidabili, quindi se ne avete uno in particolare che vi piace, potete contattarmi in privato, vi inserisco indirizzo mail e il mio numero per contattarmi via Whatsapp, per avere un software, due software, quello che più vi piace, oppure l'intero pacchetto di tutti i miei 19 software disponibili al momento. Quindi queste sono alcune delle ultime vincite ottenute, come sapete vado a informarvi e testimoniarvi sempre di quelli che sono gli ultimi esiti. Qui è arrivato l'ennesimo terno secco, fare un terno secco non è facile, ma i miei software non sono nuovi a queste vincite, perché sapete quanti termini vi ho portato con le vincite dei miei programmi. Quindi attenzione cari amici, non perdete i miei software, perché sono degli strumenti molto validi per vincere al gioco dell'otto, perché avete delle previsioni molto affidabili. Per adesso un saluto a tutti, Mr. Svancorotto.